Torna a Monfalcone la grande festa dedicata alla primavera al mondo dei fiori e delle piante. Dal 24 al 28 aprile il centro città si trasforma con Monfalcone in fiore. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Flash, SRL e Assofioritalia. Alberi da frutto e piante per l'orto e per arredare la casa, ma anche il giardino, il balcone e il terrazzo. Prodotti da bioagricolture con cimi speciali, ma anche fulari in fibra di bambù e vasi e ornamenti per il giardino. I fiori, simbolo stagionale per eccellenza, ma anche tutto quanto fa primavera, saranno gli assoluti protagonisti. Vi attende a Monfalcone 17 espositori con premiazioni e concorsi per il balcone fiorito e vetrine fiorite, con tanti fiori, colori e profumi. La Monfalcone sarà estremamente fiorita e colorata. Piante grasse, piante aromatiche e molte altre novità del settore si potranno ammirare nei giorni della manifestazione aperta dalle 9 alle 20 in Piazza della Repubblica, Piazza Unità, Via Battisti e Piazza Cavour in una coreografica scenografia di aiuole e giardini che da mercoledì 24 a domenica 28 aprile fungeranno anche come richiamo turistico. Anche quest'anno è previsto il contest che coinvolgerà gli esercenti invitati a dare colore alle loro vetrine allestendole a tema per partecipare al concorso che designerà la vetrina più bella.